Una circolare della regione Lombardia, diramata nei giorni scorsi dal presidente della comunità montana della Valle Seriana Eli Pedretti ai 28 dipendenti dell'ente, ha creato non poche preoccupazioni. Nella circolare si avanza la proposta di assorbire in mobilità volontaria personale della comunità montana nell'ERSAF, l'ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste. Va detto che la comunità montana è in difficoltà dopo il taglio dei contributi statali e la riduzione di quelli regionali a seguito della fusione tra le due comunità montane di Clusone e Albino. Sono state però mantenute le due sedi, oltre ai due dirigenti e tutti i dipendenti. Il presidente ha spiegato che si è sentito in obbligo di informare i suoi dipendenti dell'opportunità offerta dalla regione, vista l'incertezza che ha legge sulle comunità montane. Dipendenti e sindacati non l'hanno però presa bene. La Cisle Funzione Pubblica ha chiesto un incontro con la presidenza per mettere in chiaro quanto nera sia la crisi dell'ente e fornire le prospettive future, anche sui posti di lavoro. La CGL ha convocato per lunedì a Bergamo una conferenza stampa sul futuro delle comunità montane e anche sulla questione mobilità a Clusone e Albino.